buongiorno a tutti sono sabrina ritorto chiedo scusa se mi trovo in questo spazio poco confortevole ma oggi non sono in studio quindi ho bisogno di dirvi questo per chi è di milano oggi alla camera del lavoro dalle 18 e 30 alle 21 e 30 si discute dei perché no al ddl pillon in questo breve video voglio darvi alcuni dei punti perché io e moltissimi colleghi si stanno interrogando sulla agli aspetti totalmente negativi rispetto a uno due forse articoli che invece meritano di un'adeguata attenzione è un video molto breve ne seguirà nei prossimi giorni uno molto lungo dove punto per punto quindi molto lungo andrò a sviscerare gli aspetti non soltanto da un punto di vista sociale ma da un punto di vista giuridico e psicologico questo ha richiesto a me molto tempo insieme ai miei colleghi dello studio associato sei in equip proprio per dare una multidisciplinarietà ad una visione che il decreto invece trattronca totalmente allora i motivi per cui reputo reputiamo che questo decreto vada di scusate disegno di legge ddl disegno di legge vada assolutamente ripreso e ricontestualizzato è sono uno sbilanciamento totale verso gli adulti a discapito dei minori e se dobbiamo andare a dire quale adulti a discapito della donna rispetto all'uomo è un disegno che considera il bambino una proprietà i genitori hanno il compito di il dovere di scegliere quindi ci dimentichiamo anche la possibilità di l'individualità e la scelta considerando lo 0 18 la stessa cosa questi sono due degli aspetti che più mi premono il terzo viene completamente annullata la volontarietà cioè la possibilità delle persone per di più in un momento in un momento di difficoltà di poter essere messi di fronte ad una libera scelta e quindi a una volontà di scegliere e di essere responsabili sin da subito delle conseguenze delle proprie azioni questo è l'altro aspetto ulteriormente quello che voglio sottolineare è il fatto che è un disegno che porterà inevitabilmente a un aumento delle giudiziali a scapito delle consensuali e poi qui vedremo l'opinione che abbiamo io e l'avvocato rispetto già a quello che si faceva nell'affrontare le consensuali ma sicuramente a un aumento delle giudiziali sulle consensuali l'altro aspetto che mi preme sottolineare è il fatto che non si consideri minimamente la possibilità da parte della giurisdizione di avere degli strumenti per saper indicare qual è il metodo di risoluzione del conflitto perché viene lasciato ai giudici un ampio potere in merito a questo l'altro aspetto è non si parla mai di chi valuta quindi il fatto che per esempio si a ruota libera venga lasciato a tutta la famiglia allargata la possibilità di occuparsi in caso di conflittualità e di inidoneità genitoriale questo è un termine che dico io poi nel disegno invece viene usato addirittura un altro termine che secondo noi è sbagliato però siccome si è parte della famiglia abbiamo tutti il dovere e il diritto di occuparci dei bambini e se non c'è nessuno nella famiglia anche la comunità le persone intorno a noi quindi non si cita minimamente chi fa che cosa quando e perché con quali strumenti quindi questi sono alcuni dei punti che vorrei poi sviscerare in maniera assolutamente appropriata rispetto adesso con il testo davanti magari leggendoveli e parlarne nello specifico è una sollecitazione una provocazione per chiedere a chi è oggi a milano di andare pure in camera del lavoro ad ascoltare i lavori e chi non è tecnico quindi genitori ascoltate questo video andate a prendervi il disegno di legge che è assolutamente scaricabile parlatene con i vostri legali confrontatevi con chi si occupa di separazione tutti i giorni ecco e soprattutto con chi non ha poi agenzie che hanno vantaggio da questa legge e mi chiedo soprattutto perché ad oggi io non ho trovato da parte di chi ha agenzie che si occupano per esempio di mediazione di grandi dibattiti in merito a questo e quindi chiediamoci anche questa legge a presto e ci vediamo con il prossimo video